Presidente Anxam, finalmente la cappella, la chiesa del cimitero verrà restituita alla città, un luogo degno per ricordare, per pregare per i propri morti, un lavoro imponente. Come verrà articolata l'organizzazione della cappella che abbiamo visto che fra l'altro è collegata anche ai loculi? Allora, finalmente, come hai ben detto tu, possiamo restituire alla collettività questa imponente struttura che grazie all'amministrazione che ci ha preceduto, grazie all'impegno dell'amministrazione Paolini, è stata portata a termine con non poco dispendio di energia. È un'opera importante che spero i cittadini apprezzeranno e soprattutto spero che venga utilizzata per 365 giorni all'anno in quanto ritengo che la collettività abbia diritto di poter frequentare questo luogo tutti i giorni. Intanto domani pomeriggio un'inaugurazione ufficiale con una santa messa ufficiata dall'arcivescovo di Lanciano Ortona, Monsignor Cipollone. Ecco la confraternita di Lanciano, che ha chiaramente da sempre un rapporto speciale, diciamo così, con quella che è la commemorazione dei morti, inaugurerà questa struttura. Sì, sono veramente orgoglioso che l'arcivescovo abbia accettato di buon grado di venire ad inaugurare questa nuova chiesa e ritengo e spero che sia di utilità per tutti. Ecco, lei da alcuni mesi presidente appunto dell'Anxam, la società che si occupa della gestione del cimitero di Lanciano. Quali saranno le prime cose da affrontare, le prime problematiche e quelle che anche lei desidera affrontare prima? Allora, innanzitutto, già che mi sono insediato da poco tempo, vorrei ringraziare pubblicamente tutto il personale addetto dalla cooperativa al personale amministrativo che fa veramente degli sforzi enormi per cercare di mantenere il più possibile in ordine e curare la manutenzione del cimitero, che è una struttura dalle dimensioni notevoli e quindi ha bisogno di costante attenzioni. Quindi il mio primo ringraziamento va a tutti gli operatori che quotidianamente si impegnano per far sì che il nostro cimitero sia ritenuto da tanti un fiore all'occhiello di gran parte dell'Aboruzzo. Per quanto riguarda la situazione attuale, diciamo che abbiamo in animo di allargare alcune zone del cimitero perché purtroppo i posti negli anni sono venuti a scarseggiare, quindi l'impegno adesso sarà tutto rivolto verso la creazione di nuovi posti anche per dare la possibilità a chi ha intenzione di comprare un posto per un proprio caro o anche per se stesso, appunto di poterlo fare in maniera preventiva e pianificando anche quella che è un evento che purtroppo ci riguarda un po' tutti. Per quanto riguarda invece il progetto del crematorio, sappiamo che sono molte le persone che negli ultimi anni scelgono appunto di essere cremati, c'è un progetto in atto? Sì, c'è un progetto che è stato redatto già nel 2018, c'è uno studio di fattibilità, uno studio di massima che noi intendiamo riprendere e portare avanti anche perché nel corso di questi ultimi anni la cremazione è un sistema che viene adottato sempre più di frequente dai defunti, quindi riteniamo che con i numeri che crescono si possa anche pronosticare meglio la creazione di un tempio crematorio che, come tutti potranno immaginare, ha dei costi non indifferenti.